Una vita accompagnata dalla forza emotiva, dalla resilienza e dal riscatto personale. Un riconoscimento importantissimo che è stato attribuito al giovane Pompeo Barbieri, il ragazzo sopravvissuto al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia durante il terremoto del 2002. Pompeo, la cui forza è stata premiata con questo simbolo che rappresenta l'olivo Fausto, nella cornice di Guardia Alfiera, è un esempio di rinascita, ma anche di speranza per tanti giovani che hanno avuto esperienze simili. Campione paralimpico di nuoto, emozionato ha raccontato il ruolo della famiglia nella sua vita, che gli ha dato tutta la forza necessaria per ricominciare. Un piacere riceverlo e poter incarnare questi valori, anche se ho cercato in tutta la mia vita e cerco ancora di viverla al meglio possibile. Quando si è nei momenti di difficoltà, credo che bisogna prendere qualsiasi appiglio intorno a noi. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia dietro, che mi è sempre stata vicino, che è stato il mio dietro le quille, perché se io sono quello che sono oggi, lo devo a loro per la forza che mi hanno dato e l'aiuto che mi hanno dato sempre. E poi un altro grande appiglio è stato ovviamente anche il nuoto, lo sport, che mi ha portato a raggiungere dei risultati importanti. Per noi è un grande onore, è un grande piacere consegnare la prima edizione di questo premio, premio Fausto, che è un simbolo importante di rinascita. È un premio dedicato a un albero, ha un significato molto importante. È il valore di una rinascita in un territorio che era stato tamtamente abbandonato. In questo caso l'albero che è rinato da un fulmine, da un incendio, e che produce ora comunque il suo frutto. Per noi è un tema fondamentale perché il tema dell'abbandono, dell'abbandono olivicolo, è un tema strategico per l'associazione perché c'è il 30% di olivete a livello nazionale che sono abbandonate. Quindi questa rinascita deve essere anche incarnata con un simbolo, in questo caso con questa bellissima opera della Fonderia Marinelli, che è stata data a un personaggio che in qualche modo incarna questa rivincita. Il premio nazionale Fausto delle Terre del Sacramento, nato per contrastare l'abbandono e lo spopolamento della regione, il cui simbolo, l'olivo, rappresenta proprio la forza e la resilienza. Considero l'albero Fausto, questo albero di olivo centenario scampato alla caduta di un fulmine, un simbolo vivo, un simbolo nella vera accezione junghiana, un simbolo, cioè un catalizzatore, un'immagine che catalizza processi di trasformazione non solo individuali ma anche collettivi, anche culturali. In effetti siamo partiti da un gruppo di donne vittime di violenza che lo hanno scoperto casualmente in un uliveto di guardia al fiera e poi questo simbolo è stato in grado di attivare delle risonanze in tutti coloro che in qualche modo hanno incrociato il suo cammino, rispecchiandosi, quindi vedendo in questa immagine davvero qualcosa di profondo di sé, qualcosa che parla anche delle radici dei propri traumi, delle proprie esperienze di sofferenza, quindi delle proprie ferite.